Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze ed eccomi ritornata in questo nuovo video. Oggi parleremo di Daydreamer, ma attenzione ragazzi, questo è uno spoiler, quindi se non volete sapere non guardate il video fino alla fine. Sanem rifiuta la proposta di matrimonio di Jean-Devitt, ma vediamo che cosa accadrà. Nelle prossime puntate di Daydreamer, le ali del sogno, la relazione tra Jeanne e Sanem si complicherà molto. Assisteremo infatti a dei momenti romantici con colpi di scene inaspettati. Sanem, per liberare Jeanne dalla prigione, cederà il suo vero profumo all'imprenditore italo-francese Enzo Fabri, ma mentirà a Jeanne su questo. Perciò sarà assalita nuovamente da numerosi e continui sensi di colpa e deciderà un giorno di dire finalmente tutta la verità al suo finanzato. Per questo motivo, prima di farlo, si confiderà con sua sorella Leila e racconterà di mettere fine a tutto ciò e dire una volta per tutte il segreto che riguarda il suo profumo. Ma nel momento della verità, Sanem verrà interrotta proprio da Jeanne, che, sentite bene e udite udite, chiederà proprio a Leiden di sposarlo e approfittando del piccolo incidente che Sanem ha provocato proprio sulle sue pietre lunari, creerà un anello per fargli questa proposta molto romantica. Sarà un momento da sogno, che però verrà spezzato nuovamente da Sanem, che lo deluderà per l'ennesima volta. La giovane iscrittrice, infatti, lo fermerà proprio sul più bello, dicendogli di confessargli un segreto molto importante. Ma nel momento proprio in cui la ragazza sta per parlare, all'improvviso arrivano sua sorella Leila con Embrè, dicendo una bugia. Mechabè ha avuto un malore. Lei deve andare subito via di là. In realtà i due ragazzi, però, volevano solo dissuadere Sadem nel raccontare la verità a Jeanne, sapendo cosa poteva scatenare. Entrambi sanno proprio dell'accordo che Sanem ha preso con Enzo Fabri, che riguarda il profumo, e secondo loro Jeanne non potrebbe mai accettare una verità del genere. Nel frattempo, il povero fotografo, deluso dall'atteggiamento di Sadem, nell'aver rifiutato la proposta di matrimonio che credeva avesse proprio ricevuto un bel sì, si allontana proprio da lei, chiedendogli chiarezza, ma soprattutto si allontanerà da lei. Voi continuate a seguirmi ragazzi, lasciatemi un like di supporto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun altro video.